Musica Supreme Key, Off-White Cosa, Filipe Lane Chi Sei E online finalmente la Sgarashop, link in descrizione Musica Siamo tutti consapevoli ormai che YouTube non è un lavoro Comunque io vi chiedo 20.000 mi piace per non fare niente Ma soprattutto, quelli YouTuber non stanno lavorando veramente Chi annusa le ascelle di lavoro, che cosa sta facendo in realtà? Lo sta facendo per lavoro o per passione? Oggi siamo qui in un video un po' particolare, come tutti i video che sono un po' particolari Un po' particolari No, ho scoperto che nel mondo noi facciamo, almeno io faccio un lavoro che in realtà non è un lavoro E nessuno dei vostri genitori che è sulle proprie scrivanie davanti al computer non sta facendo un lavoro Perché i lavori non si fanno da seduti Secondo alcuni Nel mondo ci sono altri lavori molto più strani dei nostri Ma ci sono lavori molto pagati e molto strani che io non pensavo nemmeno esistessero E che in realtà esistono E oggi, pensate un po', e andiamo a vedere A sgarra Esiste una figura in Giappone che si chiama il Professional Busher In che senso, scusami? In che senso? Facciamo la traduzione in italiano In Giappone è davvero una nazione laboriosa Rassicura che tutte le sue persone raggiungono il lavoro in tempo Ed è per questo che il Giappone ha impiegato persone per spingere gli altri sui treni In modo che nessuno sia in ritardo al lavoro Spingi professionale non l'avevo mai sentito È davvero un buon mestiere Il fidanzato in affitto Sì, esiste una cosa del genere A quanto pare Ma sempre in Giappone c'hanno queste cose qua strane A Tokyo, se hai soldi, trovare un ragazzo è facile come si arriva Non so davvero cosa fa il ragazzo Ma sicuramente è divertente Mi trasferirò a Tokyo il giorno in cui i giapponesi scogitano il concetto di fidanzato in affitto Ah, perché c'è solo il fidanzato in affitto Non c'è le fidanzate in affitto Perché le fidanzate in affitto Ah Moto intellettuale italiano Ha detto in una trasmissione televisiva Tutte le strade portano A Troia Però credo che una cosa del genere le fidanzate in affitto non esiste Perché esistono già in realtà Ma si chiamano in un altro modo Vediamo se l'avete capito Stand in liner professionale Questi freelance attenderanno serenamente in lunghe code per te No davvero No ma davvero Ragazzi questa è la rivoluzione Effettivamente noi potremmo prendere queste cose qui e riadattarle in Italia Cioè ci sono delle persone che fanno la coda per te Cioè tu magari devi andare in posta Sei un vecchio Devi andare in posta a prendere lo stipendio Chiami il giapponesino Che si mette in coda per te E poi tu arrivi con la calma Perché tanto alle poste passano anni Sappiamo gli impiegati delle poste per quanto mi riguarda Io ho avuto sempre una bellissima esperienza con gli impiegati delle poste Assorvoliamo Lo sleeper professionale Praticamente questi tizi qui sono pagati per dormire Ragazzi io lo faccio pure gratis I dormienti professionisti si appisolano Mentre gli scienziati conducono ricerche sui disturbi del sonno Questo deve essere indubbiamente il lavoro più comodo del pianeta Perché non devi fare un c***o Secondo me ragazzi queste figure qui sono super pagate pure Perché sono mestieri strarari Io mi propongo Avete la mia mail commerciale sotto in descrizione Contattatemi Ospite di matrimonio E ragazzi E ragazzi E ragazzi Io sono uno dei massimi esperti Di ospiti di matrimonio Nel mondo Non in Italia Nel mondo Io sono uno dei massimi esperti Di start Di applausi Non ce n'è uno milione di me Questo è un lavoro parta time in Giappone Dove le persone si raddoppiano come ospiti del matrimonio Non mi credi Ecco un annuncio Sì perché probabilmente in Giappone non ci sono amici Quindi devi invitare gente a caso Oltre al denaro ricevono anche cibo gratis Cioè non solo il danno Ma anche la beffa Arrivi lì come ospite pagato E inoltre mangi pure gratis Non è male Vomit cleaner Io questo non riuscirei a farlo ragazzi Perché il vomito proprio mi dà fastidio Alcune montagne russe si immergono Si alzano E si girano A tali angoli pazzi Che la tua colazione è destinata a uscire nel modo sbagliato C'è questo simpatico signore con la maschera Che pulisce il vomito Che lavoro fai? Pulisco il vomito Deodorante tester Ci sono queste simpatiche signore Che annusano incredibili Cometti ciccioni americani Che puzzano di lardo Annusano le ascelle È l'abitudine di ficcare il naso negli affari degli altri Bene Queste persone annusano le ascelle delle altre persone Per testare i poteri antiodoranti dei deodoranti Mi dissocio Questo lavoro non lo fai Che lavoro fai? Faccio annuso le ascelle Tester per acquapark Sì ragazzi il tester per acquario In realtà non credo che sia la traduzione giusta Però questa è la traduzione che ci propone Google Questo ragazzi lo farei perché Effettivamente Quando costruiscono uno scivolo Qualcuno dovrà pure testarlo Come sapete ci sono un sacco di scivoli Molto ma molto tosti Ovviamente ci sono quelli più blandi Però ci sono gli scivoli Quelli tosti Dove vai a 2000 all'ora Non so se avete mai fatto scivoli di questo tipo Qui devi testare le varie forze E vedere se effettivamente Non esci fuori dagli scivoli Perché ci sono stati dei casi In cui della gente Alle curve Magari prendeva le curve Troppo velocemente E finiva fuori E quindi i tester servono a questo Infatti C'è sempre un'assicurazione medica Perché si rompe un osso o due Cioè il minimo Ogni scivolo fatto da tester Equivale a un osso rotto minimo Donatore di scosse elettriche I toques Come vengono chiamati in Messico Sono dei tizi che portano una piccola scatola di legno Che emette scosse elettriche Perché questi tizi qua Simpaticissimi La versione quadroregna di Fellainil Fuori dei pub In Messico in particolare Che è uno dei posti dove Insieme ad altri Altri duemila posti Nel mondo Dove c'è il problema Dell'alcol E quindi praticamente Gli ubriachi che fanno Per ripigliarsi più velocemente Fanno da questi signori E si fanno prendere A scariche elettriche Non mi guardate così Cioè non lo so nemmeno io Non vi so dare una spiegazione Carta igienica sniffer I produttori di asciugamani di carta Le asciugamani di carta Cosa sono le asciugamani di carta? Non lascia nulla di intentato Nel garantire che i loro rotoli Non abbiano odore di fallo Prima Durante e dopo l'uso Come controllano eventuali odori Indesiderati dopo l'uso Gli sniffer di carta igienica Controllano Tradotto il linguaggio Più faccia a faccia Che la carta igienica Non sappia di c***o O di c***o Dopo l'uso E quindi il problema sta Ma come fanno a testare Che effettivamente Non odori più di quella roba lì? Solo vivendo Lo scopriremo Sexer di pollo In che senso scusa? Il lavoro di un venditore di pollo È quello di identificare Il sesso di un pollo bambino Questo è tutto Ah Cuddler professionista Questo Secondo me Come dalla foto È molto interessante Se ti capita di essere in Giappone Mai stato E ti manca la tua ragazza Non sono mai stato in Giappone Dai un po' di soldi E arrivi a coccolarti E dormire Accanto a una donna giapponese Solo coccole Attenzione E... Ma io volevo E allora che è? No non ci vado Che me frega Assaggio di cibo Per animali domestici Preferisco non approfondire Il qui da carro È il classico parcheggiatore abusivo Che vive al sud d'Italia Come un parcheggiatore abusivo In Italia Ti controlla La macchina Ti controlla Cioè tu sei obbligato Praticamente a pagarlo Perché sennò ti riga la macchina Però il qui da carro Almeno si assicura Che la macchina Non venga rubata Non andrò mai in Costa Rica Con la macchina soprattutto Il tester di letti di russo Trascorre dalle 10 alle 18 In vari letti Scrive delle recensioni Sulla sua esperienza Ed è pagata da qualche parte Intorno a 1000 pounds Al giorno Beh ragazzi ma Ma abbandoniamo YouTube Che non è un lavoro Andiamo a fare I tester del letto Mamma mia ragazzi Il lavoro dei miei sogni Perché dormo Ehm Toiletfinder.com Sta cercando partecipanti Disposti a scrivere Recensioni divertenti Dei bagni pubblici Sarai profumatamente Ricompensato Con la somma Di 50 pounds Al giorno Ma è solo a New York Quindi non ti illudere Evidentemente Ti fanno andare Nei bagni Più Sudici Della storia Dei bagni Per 50 doll Lo giuro Che non è una male Terapeuta di risate No io beh non faccio ridere Quindi non sono un terapeuta Di risate Pare che ci siano Dei Degli esperti E che Mi fanno ridere Perché se voi ridete Meno di 17 volte Al giorno Siete tristi Tristi E quindi vi dovete Rivolgere da un terapeuta Delle risate Signori questi erano I lavori Più assurdi Nel mondo Che esistono Effettivamente Non so se ci sono Anche altri lavori Ok ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando 20.000 mi piace E non succede niente Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Cliccando qua sotto Sul tasto Iscriviti E sulla campanella Qua alla mia Destra In teoria Trovate Dei video Che sono usciti Anzi forse un solo video Perché ce ne sta solo uno In questa immagine Ve lo metto qua sopra Praticamente qua sopra Ci dovrebbe essere un video E' molto bello Che potete andare a vedere Poi se vi volete iscrivere Potete cliccare sul mio mento Qua in questo punto qua E potete iscrivervi Se voi cliccate qua Vi iscrivete Se voi cliccate qua Invece Non succede che andate a vedere Un mio video precedente Grazie a tutti Grazie a tutti